Poi la morte di Angela, la madre di Janie da fiocchi di cotone per Janie, buona visione! Adesso continua da sola. La prossima strofa la suoni tu! Mamma! Mamma! Che cosa hai? Oh no, Angela! Teca 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 teca! Oh no! Signore! Oh no, mamma! Mamma, rispondi! Povera Janie! Janie tesoro, purtroppo la mamma è morta! Oh no, mamma! Ti prego! Non devi morire! Non devi morire! Eh no, mamma! Ti prego! No! Purtroppo tua madre è morta! Tanto si risposerà! Janie piance a lungo disperato. Adorava la sua mamma. Sentiva di non poter vivere senza di lei. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto mettendo un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! Ciao!